Nella puntata di ieri ho preso in giro il buon Dibba, cuore del Movimento 5 Stelle, un po' ragazzo della porta accanto, un po' terzomondista, un po' vagabondo in scuterone, che si contrappone all'altro voto noto, Di Maio, figura complementare più istituzionale del partito. Nel farlo ho sottolineato come sia ipocrite andare in giro a dire che il Presidente del Consiglio metta in giro voci infondate sul fatto che i parlamentari tutti guadagnino 10.000 euro al mese, quando gli stessi parlamentari pentastellati mostrano di guadagnare anche di più tra stipendio e rimborsi, pubblicando tutto su un sito di proprietà di Beppe Grillo. Sta roba è vera, eh? Non è che me la sia inventata, ma per la stanchezza e per la fretta ho fatto degli errori piuttosto grossi nei grafici, confondendo cifre lorde e cifre nette, facendo un casino, e ho ritenuto quindi fosse il caso di rimuovere il video, per non generare confusione. Ma il cuore della questione rimane. Comunicazione emozionale, non importano i dati, importa il cuore. Inoltre al posto del video rimosso ho messo una porcheria in qualità infima, tutta schiacciata per qualche ragione, girata con il cuscino ancora incollato alla faccia. Giusto così. Per chiedere scusa e mostrare il lato umano della mia personcina. Tutto finto, ovviamente. Non sono nemmeno io quello lì, è un attore. Il punto? Voleste saperne di più? Andate a vedere cosa il giovane attore abbia da dire nel video palesemente girato con una patata. E il punto è, ci tengo a fare bene il mio lavoro, moltissimo. La sola idea che qualcuno di voi possa andare in giro disinformato per colpa mia, mi ha fatto venire il mal di pancia stamattina. E se questo mi rende una mammoletta, pazienza. Perché comunque, la mia mamma dice che sono bravissimo, quindi c'è questo. Rimanendo a tema, quindi, anche oggi si parla moltissimo di bufale, informazione scorretta, social network e giornali online. Proprio il giorno dopo nel quale ci siamo ritrovati a parlare di questa roba qui. Il 16 novembre scorso il dizionario di Oxford, che fa per la lingua inglese la stessa cosa che fa per noi l'Accademia della Crusca, oltre ad iniziarci con robe tipo petaloso, ha annunciato la parola dell'anno. Ovvero il termine che nel linguaggio comune, nel Regno Unito e nell'America del Nord, ha assunto un qualche tipo di importanza. Magari perché hanno iniziato a usarlo tutti. O magari perché questa parola esprime qualche concetto nuovo. Anche se non necessariamente nobile. Altri anni sono state inserite le parole vape, svapare credo sia l'aberrazione italiana, e selfie. Quest'anno però la parola è post-truth, che in italiano si traduce in verità post-fattuale. Quella serie di affermazioni o circostanze evocate da politici e figure con un grosso seguito pubblico, nelle quali i fatti oggettivi sono meno interessanti delle emozioni che suscitano. Esempio, gli immigrati negli alberghi, gli italiani nelle tende. È vero? Sì? No? Non è importante che lo sia. È importante come la gente si sente dopo che glielo hai detto. Questa completa mancanza di importanza per i fatti reali, rispetto a come le cose vengono raccontate, e alle emozioni che suscitano, secondo molti, è colpa dell'internet. Guarda caso, sia mai che per una volta le questioni siano complicate, eh? Nah. E internet o i videogiochi, o il rock and roll, o il twerking, o i libri game. E voi pensate che stia scherzando? Ma c'è stato un momento nel mondo nel quale i libri game, tipo lupo solidario, erano accusati di favorire il satanismo. E la maggior parte di voi non sa nemmeno a cosa io mi stia riferendo. Ma vedrete, quando sarò io al potere, il satanismo sarà religione di stato e non ci saranno problemi. Ma per ora, disinformazione uguale internet, apparentemente. Vi ricorderete, ad esempio, le molte critiche che sono state rivolte a Facebook e a Google dopo l'elezione di Trump, accusate di non avere in alcun modo fatto da filtro tra ciò che è vero e ciò che è bufala in una campagna elettorale che è stata una sorta di guerra tra promesse improbabili, già largamente riviste, peraltro, e desiderio che quel muro, al confine con il Messico, fosse effettivamente eretto o che davvero Hillary Clinton sarebbe stata ammessa in carcere per crimini che l'FBI ha più volte detto non essere dei crimini. Il punto è, come fanno notare tutti dalla Notte dei Tempi, compreso un recente articolo comparso su Bloomberg, la colpa è probabilmente un po' di tutti. E forse i social sono pure quelli che colpa ne hanno meno. Per capirci, le balle su Facebook, su Twitter, su Google, nel mondo del web, sono qui per restare. Le grandi aziende che operano su internet dicono delle cose, ma non hanno veramente interesse a impedirne la circolazione, perché, per dirla chiaramente, a Facebook non interessa cosa condividiate o cosa commentiate sulla piattaforma, l'importante è che lo facciate. E come su YouTube, sono dieci anni che lo dico, non ha senso invocare la qualità, perché non è un sistema che può stare in piedi a colpi di qualità, e a nessuno frega niente. L'importante è che consumiate contenuti e con essi la pubblicità. Agli inserzionisti non fa alcuna differenza che voi guardiate video tutorial su come curare il cancro con il bicarbonato o documentari sulla seconda guerra mondiale. È uguale. Stessa cosa. Apple Facebook, stessa cosa. Quindi, su chi li cade la colpa? Sui giornali? I giornali inseguono i click, ovviamente, cercando quindi di promuovere ciò che è controverso, che fa discutere, magari che fa arrabbiare e fa tornare sulle pagine. Non è un caso se ormai tutti i titoli sono incentrati sull'emozione, il brivido applicato a ogni cosa, è la scollatura da urlo, che ancora nessuno mi ha spiegato cosa significhi, peraltro. Più click più soldi, più soldi uguale stabilità economica, specie in un momento nel quale accadono due cose. Uno, la gente compra meno giornali e due, la gente gli articoli online nemmeno li legge, come evidenziato da vari studi dei quali abbiamo già parlato, fermandosi in oltre la metà dei casi al titolo. La gente legge solo i titoli, quindi è un cane che si morde la coda. Quindi, la domanda è sempre la stessa. Di chi è la colpa? È colpa del giornalismo, che perde per strada il ruolo fondamentale di informare il più possibile i cittadini nel tentativo di adattarsi ai tempi? O è colpa dei cittadini, che non fanno uno sforzo per informarsi, lasciandosi imbambolare da una politica sempre più semplicistica e sempre più emozionale? O magari è colpa della politica, che ha tutto l'interesse affinché i giornali vengano considerati come una sorta di blocco di nemici da abbattere, ed è impegnato ad ostacolare i movimenti di gente onesta e indignata che non ce la fa più e che non arriva fino a mese? Alla fine è colpa dei social network, il quale unico interesse è in realtà che la gente parli e discuta senza interessarsi minimamente di quali siano gli argomenti dei quali hanno a occuparsi. Ditemi voi nei commenti. Tra le altre cose interessanti di oggi, Donald Trump, che ha incontrato i suoi acerimi nemici proprio di un giornale, del New York Times, dopo aver quasi fatto saltare l'intervista accusando i vertici del giornale di aver cambiato le regole in corso d'opera. Insomma, il solito casino, la solita roba. L'intervista è interessante però, per due ragioni. La prima mostra come ci sia da parte sua un tentativo di contenere l'anima populista e far prevalere quella presidenziale. Ad esempio ha in pratica ritrattato quello che ha sempre affermato sul cambiamento climatico, ovvero che fosse una sorta di complotto del governo cinese, affermando di voler mantenere una mente aperta e uno spirito critico in merito. Che è una cosa ottima, ma non troppo ottima. Va benissimo a regettare i complotti, non c'è dubbio. Complotti nei quali non ha mai creduto, peraltro. Era soltanto un modo palese di portare dalla sua i conservatori che vogliono meno regolamentazioni, ovviamente. Ma è veramente sensato parlare di mantenere la mente aperta, mentre il giorno prima, in un video diffuso sul web, parlava di eliminare le regolamentazioni e i limiti all'estrazione e all'utilizzo di carbone e gas naturale, perché le regolamentazioni servono anche a quello, a rimanere nei parametri cosiddetti accettabili anche per far fronte al riscaldamento globale. Quindi, da buon politico, colpo alla botte, colpo al cerchio. Il punto più interessante però è l'aver cercato allo stesso tempo di prendere le distanze dall'estrema destra americana, specie dopo i video diffusi negli scorsi giorni nei quali non si sta affatto facendo un saluto che rimanda a un noto regime del passato, eh? Ok, si sta solo salutando, così, genericamente, gli altri camerati. Ma il buon Donald, pur affermando di non aver affatto rafforzato i gruppi estremisti bianchi e tutta quella roba lì, tipo l'alt-right, che lo ha supportato, ha al contempo difeso una delle sue nomine più controverse, ovvero Stephen Bannon, nominato consigliere speciale, è accusato per anni di essere razzista, estremista e addirittura antisemita. Questa persona sarà, assieme a Donald Trump, dentro la stanza dei bottoni. Per me il fenomeno Trump è appassinante, sarà davvero interessante e molto facile, perché è all'estero, vedere cosa farà quando sarà il governo e se e quanto e come la sua retorica populista dovrà modificarsi quando davvero si troverà con le redini di una nazione complessa come gli Stati Uniti nelle mani. Di fatto è una cosa che vedremo quando al governo nazionale saliranno i 5 stelle. Ora, non che voglia guffarvi con le mie previsioni, che ultimamente non ne becco una, ma è statistica che prima o poi toccherà loro. È soltanto che vederlo applicato qui è più difficile, perché poi ci sono le persone pro, le persone contro, un casino incredibile, una cagaia mai vista. Il punto è che la base per analizzare fenomeni politici è rendersi innanzitutto conto che una cosa è il politico in campagna elettorale, una cosa è il politico al governo. Quelli che invece sono a fine mandato di politici come Obama passano il tempo a presenziare eventi, raccontare aneddoti e appuntare medaglie invece. Proprio ieri sera 21 persone hanno ricevuto dal presidente americano le medaglie della libertà, che suona un po' così, comunque è la più alta modificenza alla quale un civile può aspirare negli States. Tra i premiati Tom Hanks, Bill Gates, Bruce Springsteen, Robert De Niro e Ellen DeGeneres, premiata per la sua militanza sociale concernente i temi LGBT, avendo fatto coming out come lesbica quasi vent'anni fa, quando i pregiudizi erano molti più di adesso. Il discorso con il quale è stata premiata è carino, ve lo lascio in descrizione e ovviamente vi lascio in descrizione anche la più grande mannequin challenge fatta tra tutte queste persone, ovviamente organizzata da Ellen stessa. Parlando di discorsi online ma molto più controversi, internet si sta spaccando sull'intervento di una donna. Questa donna ha un TEDx, le famose convention motivazionali nelle quali la gente parla, dice cose, becca applausi e poi corre a scrivere nel curriculum relatore a un T e D. Perché se ti dimentichi di mettere la X, alla fine sbalataggino. Ovviamente le persone te l'hanno per scontato che sei super importante anche se hai pochi followers su Instagram. Il punto è che c'è una differenza tra TED e TEDx, comunque per semplicità diciamo che è una misura dell'importanza dell'evento, ma non è questo il punto. Il punto è che la donna parla non di fat shaming, quindi delle pressioni che la società mette e le mette nel far sentire a disagio chi non rientra in certi canoni estetici, ma di fatphobia, ovvero un'ipotetica paura delle persone grasse. Credo di non aver mai visto innanzitutto un video essere così velocemente devastato di non mi piace e infatti proprio in nome del confronto i commenti sono stati disabilitati. Ah, non è bello quando si può chiacchierare e scambiarsi opinioni grazie al potere dell'internet? Un mondo di possibilità. Una delle cose che più viene criticata a questa donna è comunque l'accostare le persone sovrappeso a categorie come le minoranze etniche o la stessa comunità LGBT, della quale parlavamo poco fa, affermando che anche gli individui palesemente obesi debbano affrontare lo stesso tipo di discriminazione che la società riserva a queste alte categorie. Credo di non aver abbastanza elementi per farmi un'idea e non essendo mai stato sovrappeso non ho nemmeno un metodo di giudizio personale ma credo che il punto di equilibrio sia simile a quello di altre discussioni che abbiamo avuto in passato in merito ad esempio all'abuso di sostanze. Una roba completamente diversa, ma sentitemi. Dirsi comprensivi nei confronti di chi è dipendente non equivale a promuovere o cercare di normalizzare l'idea che qualcuno possa essere dipendente da qualcosa. Credo che sia la stessa linea che separa a dire sono un eroinomane, vorrei che non mi odiaste in quanto tale, da sono un eroinomane e non c'è niente di male in questo. Non lo so. Faccio come fate voi nella gassetta di Shai. Pareri? In ultimo, una buona notizia per quanto riguarda il magico mondo della scienza che come sappiamo non esiste in realtà. È tutto un grande complotto per evitare che la gente viva per sempre grazie ai fiori di Bach, apparentemente. Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, giunta di centrosinistra guidata dall'abbastanza noto presidente Bonaccini, ha approvato una legge che rende obbligatoria le vaccinazioni per i bambini che frequentano gli asili nido, reintroducendo l'obbligo abolito nel 99 di vaccinare i figli per le quattro classiche malattie di base, difterite, polio, tetano ed epatite B. Pena non poterli iscrivere all'asilo. La legge che è stata votata contro dai 5 Stelle è stata spinta dalla volontà di aumentare la massa critica dei bambini vaccinati che è considerata sicura soltanto sopra il 95% della popolazione totale. Questo perché nel restante 5% spesso ci sono delle persone che per varie ragioni non possono vaccinarsi e godono di quella che è normalmente definita immunità di gregge. Proprio come il gregge di persone che dovete essere i tagliotti per non capire che nei vaccini Big Pharma ci mette i microchip per il controllo mentale, eh? Ecco, a queste persone non deve essere permesso di non vaccinare i propri figli, perché i figli non sono di loro proprietà e hanno diritto a non avere la poliomilite anche se hanno genitori complottisti. E soprattutto non è questione di come ti arredi il salotto, che a nessuno frega niente. Dal numero di vaccinazioni totali dipende proprio la salute di chi a quelle vaccinazioni non può sottoporsi. È un po' come se tuo figlio adolescente ti dice che vuole fare lo youtuber. Se te lo dice di nascosto, nel tinello, sottovoce, tu puoi pensare che sia soltanto una questione vostra, una sorta di onta da lavare il prima possibile, ovviamente, per evitare di sporcare l'onore di famiglia. Ma nel momento nel quale tuo figlio va a scuola e convince anche altri bambini a voler fare gli youtubers da grandi, il problema diventa condiviso ed è possibile che gli altri genitori vogliano menarti, denunciarti o entrambe le cose contemporaneamente. Severi, ma giusti. E questo, gentaglia, è tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Sta puntata è venuta lunghissima. Queste settimane sono pazze. Sono contento, stiate approfittando degli sconti su EIA, comunque non vedo l'ora di farvi vedere a cosa stiamo lavorando in gran segreto. Al fine di oggi sono gli stessi di ieri, Marco, Davide e Andrea. Non volevo che foste vittima della censura del video di ieri, quindi ecco di nuovo i vostri brutti musi in chiusura. Fate i bravi, ci vediamo domani.